In questo nuovo video andiamo a vedere come e perché mi sono posizionato nuovamente short sul mercato del gold, posizione che in realtà avevo già preso nelle scorse settimane, che poi avevo chiuso con un piccolo costo operativo successivamente. Ho deciso di rientrare su questo nuovo mercato. Io sono Damiano Zito, price action trader indipendente, membro e collaboratore di Airforex, questa community. Quella che vedi è Professioni Trader, una rubrica dove settimanalmente racconto un mio diario di trading su un conto reale che ho aperto come fase esperenziale del percorso di accademia che ho intrapreso sempre all'interno del mondo Airforex. Ho davanti il grafico dell'oro, quindi XAOUSD, ho la mia posizione che in questo momento è più o meno a prezzo di calico, ma come al solito vado prima a prendere il diario di trading per andare a vedere un po' quella che è stata, diciamo, qual è stato il mio ingresso, quindi la size se vogliamo. Quindi trade che ho inserito il 13 di giugno, il trigger è stata la pinbar che adesso andiamo a vedere a grafico, ho rischiato i miei 250 euro sul livello massimo 2410 dollari per once e sono entrato appunto a 2310. Qui c'è, adesso insomma vedo un errore sul livello di target, adesso lo andiamo a vedere sul grafico, e per quanto riguarda il controvalore possiamo vedere che in questo momento sono esposto sul mercato con un controvalore di circa 5700 euro. Quindi a fronte, diciamo, di questo rischio, insomma, sono esposto. Sono esposto con questo nozionale, chiaramente con una leva, quindi con un margine che è quello richiesto dal broker, che se non sbaglio è circa 570 euro, quindi leva 1 a 10 per quanto riguarda questo tipo di asset. Bene, quindi torniamo un attimo sul grafico, andiamo a vedere un po' quella che è stata la mia decisione dal punto di vista appunto di trading. Quindi partiamo dal settimanale, perché effettivamente io ho già fatto, per chi mi segue, avevo già fatto uno short su questo mercato, praticamente dopo il ribasso che era avvenuto durante questa settimana del 20 maggio, era praticamente, questa era una barra outside che veniva dopo un trend sicuramente forte, quindi un trend long, c'era stata questa lateralità, quindi il mercato aveva un po' arrestato la sua salita, qui aveva fatto un pattern FTV che è stato comunque convalidato, breccato al rialzo, ma qui aveva fatto una falsa rottura di questo livello, quindi testa il 2450 massimo storico e viene giù con una outside bar. Outside bar che almeno nel brevissimo termine poteva portare come ribasso a un, come dire, a un primo livello di, diciamo, di arrivo intorno a questi minimi ed infatti così è stato. Per quanto riguarda, diciamo, il mio posizionamento, io avevo fatto un primo ingresso, diciamo, nel, diciamo, nel, sì, era proprio il 29 maggio, 29-30 maggio, avevo fatto questo ingresso dopo, appunto, settimana forte di sell-off, un ritracciamento molto tranquillo, molto lieve, poi dopo questa giornata di ribasso, quindi confermativo di quello che era stato il movimento short, ho deciso di fare un ingresso, se non ricordo male, 2003-35, quindi sono entrato più o meno su queste zone. Il mercato continua a giocare su questi livelli, quindi consolida, nel momento in cui esce da questa congestione, da questa lateralità, quindi io sul formarsi di questa candela, quindi in serata, durante la sessione americana, ho deciso di uscire in maniera prematura dal mio trade, perché questo, pensavo, potesse essere in realtà lo spunto per una ripartenza long, anche guardando un po' quello che c'era dietro e come si stava costruendo qui la salita. Per chi ha visto il video precedente, insomma, ho fatto anche la riflessione che avrei potuto sicuramente abbassare il mio stop, magari a 2004, 2004-10, dove adesso invece ho inserito il nuovo stop di posizione. Però ho deciso di fare questa scelta operativa, discutibile o meno, quindi ho tagliato un costo operativo e adesso ho fatto un nuovo ingresso. Se andiamo a vedere un po' la dinamica, anche a 6 ore, già la giornata del 7 giugno, quindi la giornata successiva alla mia uscita, c'era stata una, come dire, la conferma di una falsa rottura, quindi con questa barra che dalle, se non sbaglio, è quella delle 7.13, sì, quindi è il 6 ore del mattino che prende tutta la sessione europea, aveva riportato il mercato in close all'interno del range, quindi diciamo la lateralità che si era vista prima sul daily, quindi tutta questa zona, questo grande rettangolone che possiamo andare a prendere, così, eccolo qui, insomma il mercato era rientrato all'interno di quest'area in maniera molto chiara, molto netta, e nel momento in cui ho visto questo rientro, non ho avuto la prontezza di entrare, perché dopo questa vola mi attendeva un ritracciamento un pochino maggiore. Il mercato è venuto poi completamente giù, è andato a chiudere la settimana su 2.290, che era una zona dove avrei potuto anche scegliere di incassare l'eventuale movimento. Ora, cosa succede? Il mercato poi dopo questa, comunque questo è stato un movimento decisamente molto ampio, ha ritracciato, questa è la candela della domenica, comunque ha ritracciato in maniera lieve rispetto a questa volatilità, e il 12 giugno dopo questo ritracciamento viene a formarsi questa pinbar, quindi era il mercoledì, mercoledì si viene a formare questa pinbar, per me questo è un segnale da parte del mercato che non ne ha più, quindi come ritracciamento di questa gamba short per me è sufficiente, nel momento in cui vedo che il mercato mi sta dicendo che non ne ha più per andare al rialzo, posso valutare un ingresso. Quindi il giovedì 3 giugno ritengo sia valida l'idea di poter entrare con un, se non l'economia sia, avevo fatto un sell limit, quindi in mattinata avevo inserito un ordine sell limit, il mercato aveva già breccato al ribasso questa pinbar, comunque inserisco quest'ordine, è stato poi colpito in, se non sbaglio durante la sessione pre-market, comunque tra il pre-market americano e durante la sessione americana, quindi vengo colpito, il 2003-10 è dentro al mercato, quindi il mio trade è entrato il giovedì 13 giugno. Il giorno successivo, quindi il venerdì, il mercato ritraccia poi quella che è, stiamo a vedere, in realtà poi questo si è venuto a creare, in realtà quindi questa pinbar con questo ribasso, si è venuto a creare il 13 giugno, è anche un ulteriore trigger operativo che non è stato ancora convalidato con la rottura di questo minimo, comunque il mercato ritraccia e al momento cosa succede? Che, stiamo a vedere, questa è la domenica, però ieri che era lunedì e oggi è il 18 giugno, al momento, insomma, il mercato sta un po' riprendendo quello che è stato il rialzo del venerdì, proprio nella giornata di ieri è stato fatto un minimo sul mio livello proprio di ingresso, più o meno 2003-10, lo vediamo qui, quindi proprio tondo, 2003-10 tondo, dove ho effettuato anche il mio ingresso. Ora siamo a 2311, 312, siamo più o meno al mio prezzo di carico. Guardiamo un po' quella che è la dinamica a sei ore, la sto osservando da vicino, perché chiaramente ho questo trade in atto, vorrei capire se effettivamente il mercato riesce un po' a dare sfogo a quella che sembra essere una forza di dollaro americano, e quindi questa è, diciamo, la dinamica che sto seguendo. Al momento, quindi, c'è stato il ribasso, come dicevo, io sono entrato qui, il mercato, se vogliamo andare a vedere, ecco quello che ha fatto tra giovedì e venerdì, adesso sta recuperando. Cosa succede? Nella giornata di ieri, così andare a vedere più nel dettaglio, crea questa candela di indecisione, che sono un po' troppeline, questa candela di indecisione, quindi il 17 giugno, tra le 13 e le 19, quindi in chiusura poi di sessione americana, quasi in chiusura di sessione americana, quindi al momento, diciamo, crea questo massimo e minimo, che diventano almeno nel brevissimo importanti, quindi alla rottura del 2003-10, effettivamente dopo questa congestione, ci potrebbe essere, anche già nella giornata di oggi, un po' di accelerazione al ribasso, chiaramente da fare attenzione, perché siamo sempre all'interno di un, come dire, un mercato che è stato forte per settimane, per diverse settimane, diversi mesi, adesso sta in una fase di congestione, e se dovesse comunque andare al ribasso, e su queste zone, quindi sotto i minimi della scorsa settimana, dovesse comunque creare, poi una price action long, non sarebbe il massimo per il mio trade, quindi insomma andrò poi a gestire la posizione, ovviamente questo se il mercato viene giù, ovviamente il mercato può fare quello che gli pare, quello che vuole, e potrei trovare anche già stasera il mercato, un pochino più in alto, a 2.360, 2.380, insomma nessuno può saperlo, quindi diciamo questa è la dinamica, per quanto riguarda il mio investimento, quindi lo stop, quindi i miei, a questo punto i miei 250 euro di investimento, su questa posizione, ho deciso di inserire uno stop a 2.410, cioè uno stop che vista la volatilità che c'è stata, in questo caso decisamente straordinaria, molto ampia del 7 giugno, quindi venerdì 7 giugno, c'è stato un movimento di 100 dollari, sul loro non sono pochi, quindi 100 dollari in una giornata, un movimento decisamente forte, ampio, quindi ho deciso di mettermi praticamente qualche dollaro sopra, rispetto al massimo siamo a circa 22, quindi 22 dollari di questo spazio, più in alto rispetto al massimo di venerdì 7 giugno, diciamo il mio stop, il mio massimo investimento, con l'idea che chiaramente se dovesse crearsi poi più avanti, più avanti anche la possibilità di fare un incremento, comunque di gestire questo, come al solito, questo mio investimento, e andare poi magari a fare degli incrementi, se ci sono le condizioni, se necessario, anche perché chiaramente la zona cui fare attenzione adesso, a questo punto, è sicuramente questa zona di, eccola qui, questa zona di acquisto, se lo segnate in rosso in questo momento, comunque questa è una zona piuttosto calda, bisogna fare un po' attenzione, però poi l'idea è andare a muovermi, quindi accompagnare il mercato, se dovesse scendere almeno fino alla zona, eccola qui, dove c'ho un livello chiave, quindi questa zona è, 2180 è un livello chiave, comunque la zona che poi è più o meno la zona di questo T4, dell'outside settimanale, quindi diciamo potrei andare, io ho già messo il rettangolo, potrei andare, dovesse il mercato scendere, potrei andare ad accompagnare il prezzo, fino a questa zona, 2180, 2002 potrebbe essere la zona dove andrei a prendere eventualmente profitto, chiaramente facendo attenzione appunto, sempre a questi minimi, qui c'è una zona intermedia, 2250, andrò poi comunque sempre a gestire, sia dal punto di vista tecnico, ma anche amministrativo del mio portafoglio, quella che è l'operazione di trading short che ho su questo mercato, quindi per quanto riguarda questa posizione, diciamo che questo è il mio trading atto, dopo il primo short chiuso con un piccolo costo operativo, ho deciso di fare questo nuovo ingresso, o inoltre la sterlina dollaro che sto guardando veramente molto da vicino, potrebbe essere un trade che vedremo magari la prossima settimana, quindi un trade che vado ad inserire magari anche già nella giornata odierna, quindi uno stop, un sell stop magari sotto questi minimi, quindi vista la struttura settimanale, quindi pin bar che si è venuto a creare su questo livello, pin bar comunque di una certa volatilità, 200 punti di 200 pips di volatilità, importante che va a riprendere questa zona, questo livello, questa chiusura, chiude basso, conferma quello che era stato un primo stop da parte del mercato, quindi una possibile inversione, adesso l'idea che ho è uno short, quindi anche sulla sterlina, chiaramente ho già uno short in essere sul gold, quindi andrò poi a gestire le mie posizioni in base, in base a quella che è la price action, quindi all'investimento massimo che vorrò avere sul mio portafoglio, in base a quello che è il mio piano. Quindi per questa settimana è tutto, abbiamo visto quindi questa posizione sul gold, vediamo se come si muoverà il mercato, e quindi quali saranno poi le mie prossime decisioni di trading su questi mercati, quindi gold e sterlina dollaro, li vedremo poi alla prossima puntata. Io come al solito vi ricordo, potete lasciare un like a questo video per, insomma, se vi è piaciuto, se vi è piaciuta l'esposizione, se vi è piaciuto il contenuto, se vi è piaciuto il trade, e se non l'avete fatto, cosa avreste fatto voi, quindi lasciare un commento sotto al video, per eventualmente confrontarci con idee di trading diverse. Per oggi quindi è tutto, ringrazio ancora una volta per aver visto il video fino in fondo, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, e vi auguro un buon trading. Ciao.